info della vigilia di natale 2023 un caro saluto e grazie di essere sul nuovo canal 104 plus la terra quello a cui può assomigliare e che può assomigliare a tutto quanto mettere insieme la rappresentazione dell'intera terra anche oggi non è facile l'enorme quantità di informazioni di una terra piana di un piano piatto di un orizzonte piatto insieme all'acqua piana sono prove che fanno comprendere che la terra è piatta non è una palla e sono fatti che chiunque è in grado di accertare personalmente e di analizzare il resto è credere e credere è nemico di conoscere questo messaggio è rivolto a chi sa che la terra è piana e nulla è lasciato al caso perché a livello pratico in generale non possiamo sapere nulla in base alle informazioni di pubblico dominio di cui possiamo venire a conoscenza ho fatto questo preambolo perché siamo nel mezzo di un periodo ingarbugliato dove nascono e mischiano notizie create per ingarbugliare ancor di più la possibilità di indagare sulla realtà delle cose canal 104 plus invita a distaccarsi dalla caotica società dove la popolazione ignara viene assoggettata da una elite protetta non solo dalla piramide sociale ma da lupi protetti dall'immunità parlamentare eletti da chi ancora va a votarli esempio pratico lo strike ricevuto sul canale di dino tinelli per aver informato che l'ex ministro speranza ha indagato esistono poi piattaforme che divulgano titoli falsi chiamasi clickbait o acchiappaclick in italiano è un termine che indica un contenuto web la cui principale funzione è di attirare il maggior numero possibile di internauti diffondono video di terre oltre quello che possiamo conoscere ma non esiste nessun documento vero ma solo idee già il 2 agosto 2017 avevo pubblicato un video che mostra altri continenti oltre l'anello antartico esiste anche la pubblicazione di un giornale hawaiiano di una piantina di migliaia di anni fa dove si vedono continenti sconosciuti ma di tutto questo non si sa nulla il resto sono mere fantasie come ho accennato siamo in un periodo dove fanno di tutto per screditare dividere e disunire tutti dove usano nuove religioni collegandole con ricerche scientifiche come spiega sulla repubblica del 20 novembre 2023 gabriele ceracchini fondatore della nuova religione dove afferma la terra piatta sì va bene serve ad attirare l'attenzione dei media usano persone note per screditare argomenti delicati come hanno fatto durante la plante mia dove anche i medici si fa per dire hanno fatto articoli contro la terra piana e sta succedendo ancora adesso che chi ha insistito per avermi come ospite e sapendo come funziona il giochetto non ho accettato ha screditato la verità che porto avanti da tempo non serve dilungarmi desidero semplicemente dirvi di fare molta attenzione ascoltate il vostro cuore non gli altri e fate attenzione a chi va in televisione l'abbiamo già visto che chi lo fa ha solo due alternative o venire deriso o voltare gabbana